Alisson Tour, domani prima tappa a Roma, ministri, sottosegretarie e le principali imprese del trasporto e della logistica si confrontano per il rilancio del mezzogiorno. Il ministro Giovannini in conferenza stampa risponde ad Alice Channel sulle politiche ed incentivi. Oltre a mare bonus e ferro bonus, il fondo di 2 miliardi per la mobilità sostenibile riguarderà anche l'intermodalità. Al vaglio nuovi strumenti. Prezzo del petrolio in rialzo il Brent tocca 114 dollari al barile. Berlino, embargo al greggio russo, con o senza l'Ungheria. Mosca intanto valuta il piano di pace proposto dall'Italia. Il patto di stabilità sarà sospeso anche nel 2023, ma l'Unione Europea avverte non è un liberi tutti e richiama l'Italia su debito e bassa crescita. 30 anni dalla strage dei capaci, l'Italia ricorda Falcone, Mattarella, Palermo, giustizia e ripristino degli ordinamenti internazionali.